Un saluto a tutti, vi confesso che in questi giorni pre natalizi per giunta provo un certo sconforto, anzi un grosso sconforto, vi spiego, una volta quando la televisione c'era ma era poca cosa, quando internet non c'era, quelli con la testa matta, un po' stupidi, un po' vigliacchi, un po' mascalzoncelli, andavano nei cessi della stazione e dietro le porte o negli autogrill scrivevano le loro stupidaggini, offese, storiacce, insulti, le cose di cui vergognarsi e lo facevano con l'anonimato scrivendo sulle porte dei cessi. Adesso viviamo in un mondo da questo punto di vista peggiore, in tv, in certe tv troppo spesso si gioca a chi la spara più grossa oppure si gioca a fare il mostro, a chi ha le storie più truci, più violente, più volgare, solo per apparire. In internet, strumento importante per molti versi, succede la stessa cosa, ci sono dei blog dove uno può scrivere quello che gli passa per la testa, anche lì molto spesso in anonimato, senza farsi riconoscere per vigliaccheria, altre volte invece, peggio del peggio, ci mettono pure il nome e questa è la cosa sconcertante, perché è il nome a volte di politici, non so come la pensiate noi, io in politica quando vado a votare cerco di mandare lì qualcuno che mi rappresenti, ma qualcuno che sia un po' migliore di me, un più bravo, un po' più intelligente, un po' più lungimirante, un po' più preparato. Bene, ci sono invece alcune persone che fanno esattamente il contrario, tirano fuori il peggio dalla gente, la storia è semplice, c'è una giornalista di un giornale locale, il Corriere dell'Alto Adige, fa un'intervista ad un musulmano, l'intervista non piace ad alcuni, in internet invitano a stuprarla, mandarla in Africa e farla stuprarla e poi giù insulti su insulti e cose di questo tipo, di una volgarità e di una vigliaccheria assoluta, i protagonisti sono, bisogna dirlo, l'ex candidato della Nega Nord di Merano a far sindaco, addirittura Sergio Amanini e poi a Bolzano con il suo blog, come si dice, Maria Teresa Tomada, consigliere comunale, si possono avere opinioni diverse, si può fare tutto, ma razzismo, violenza, violenza contro le donne, volgarità, il peggio, no, quello non deve venire fuori, invece viene fuori di positivo, c'è solo che almeno queste persone le conosciamo meglio e se le conosci, come si dice, le eviti. Un saluto a tutti.